Ciao Gucciola, che fai? Vediamo cosa sono queste cose carine Wow Queste sono dei trucchi Sono nuovi? E cos'è questo? Un pennello? Sì È di una zappa Bellissima, a forma di zappa E qui cosa abbiamo? Delle formine? Sì Ci stai giocando con la plastilina? Oh Vediamo Ci sono delle lettere? Sì Delle lettere Dei numeri Ciao amici, bentornati in un nuovo video Ciao Aurora, saluta Ciao Ciao Oggi Aurora ha comprato un pacchettino piccino piccino E c'erano queste cosine È vero? Adoro Questo è un unicorno Sì, che ho creato io Una scatolina Abbiamo preso Un burro cacao E il pennello di duchessa Degli aristocatti Ci sono le ali Ci sono le ali? Ah, l'ho montato Che carino Che carino Se le metti un attimo E c'è anche la coda forse Mi sa Vero? Forse Bello Aspetta che ti aiuta mamma Eccolo finito Guardate com'è carino Con le ali Con le ali La gomma La criniera Guardate che faccio 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 Faccio per finire che Il bludo e il blush E me lo metto C'è la plastilina Verde e rossa Con il colore della fragola Della fragola E sì Ok Adesso è contento E invece questo rossetto com'è? Vediamolo, aprilo Io me lo vedo io Tadam Ah, è carinissimo Ed ecco Piuccia vuole mostrarvi Anche il suo nuovo acquisto Guardate come sono belle Queste scarpe Cosa? Ce la scusse Le ho mangiate in un nego Certo E si chiama acquistare Si dice Quando prendi qualcosa E ci abbiamo acquistato Guardate come sono carine Domani le metterò Per andare a scuola Voi siete pronti Per andare a scuola Al back to school Sì 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 Signor capitano Guardate Pennello Anche lei ce l'ha uguale Ed eccola di nuovo Col ciuccio Guardate A forma di zampetta È bellissimo Sì È di un braccio A forma di zampetta Guardate Il mio mio Se parto male Guardate Guardate La nostra Contenzione Di libricini Di fiabbe Quanti ce ne sono Allora Questo Forse Cenerentola 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 Il gatto con gli stivali Biancaneve Biancaneve Questo è Pinocchio La regina delle nevi Peter Pan Il soldatino di piombo I vestiti nuovi dell'imperatore Questo non lo conosco Dobbiamo leggere Il brutto Anatroccolo La sirenetta Questa invece La bella addormentata La principessa dei cigni I cigni selvatici Poi Aladino È il genio della lampada Questo è Il cappuccetto rosso Questa lice La pastella Sì Questo è Pollicina Re Artù E la spada Excalibur Quanti Il principe Schiaccianoci Ciao Aspetta Il gigante Egoista Guarda I tre porcellini I tre porcellini La piccola Fiammiferaia La bella e la bestia Il mio preferito Questo è Il bambino Il libro della giungla E poi c'è Alibaba e 40 ladroni Quale volete Che vi leggo Questa sera Prima di andare a letto La bella bestia Le vostre preferite Quali sono? A me c'è un reno C'è un reno A me bella bestia Frozen Frozen Quale è questa? Generentola Va bene Poi ve la leggo Questa sera Vediamo un po' Sei ingastrata La plastilina Sono dei libricini Sono dei libricini Illustrati Con i disegni Carino Poi lo leggiamo E i tuoi preferiti Quali sono? E detto Allora La bella e la bestia 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 La bella e il mio cartone preferito Nel barattolino La sirenetta è bella pure Si E' molto carina Molto bella Io vai 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 Mi vado a truccare I piedi Guardate come cammino Con le scarpe nuove Vediamo le scarpe Come ti stanno Wow Come sono fashion Guardate Carine Molto carine Ok A fra poco Ciao 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 Sono le mie piccole serissime Ah Chi sto Algele Se no Non si vedono Così Come sono carine Guardate I capelli di Aria Sono praticamente Inuguali Sì Guardate Ho Ho Visto una cosa Per farle La signora Non si sa Nel Per i capelli Eh sì Vedi con me Hanno fatto una bella Conciatura Vedi con me Guardate Queste sono le bambole Di Aurora Qua ve lo Qua ve lo Ma ce n'hai tante altre Che le hai nascoste Dove le hai messe? Guardate i giochi Che ci ha portato Questi sono gli altri Suoi giochini Guardiamo i giochini Che ha portato Babbo Natale Questo è quello Che ha portato Di Nonna Rita Questo Questo è la pasticceria Di Barbie Come è carina Fai vedere la Barbie Qual è? Questa è la Barbie Questa è qui Ah Prendila Metti la vicina La pasticceria Wow È molto carina Guardate Questo è bello Mi piace Mi faccio volare Invece E la mia zia Sara E invece Questa che cos'è Facci vedere È una cucina La mia zia Guardate Guardate La lavatrice La posso Traverla I panni Che carina Qua di lavandina Guardate Allora Questa è l'asciugatrice No Un microonde Ah Un microonde Guardate Che carina Questo è il potere Dove si accendere Guardate La mia mamma E vediamo invece Tu cosa hai qua La sua Elsa Con i capelli sciolti Infatti c'è una faccia Dove si sciolti È bella Questa mamma Ma c'è pure Anna Se non sbaglio Vero È là dentro Dove Nascosta Là Dentro E prendila Vedo gli stivali Che sbucano È anche lei Sciolta Pure lei C'ha le trecce sciolte Come è carina Però Si è innamorata Di Anna e Elsa Alla follia Le adora Ups È caduta una scarpetta Di Anna Si è trasformata In generendola Sì Vero Sì Allora Le mie E questa È la macchina Della tua bambola E dove l'hai messa La bambola È il cubo Ah ho capito Com'è carina Guarda Bella E questa È la tua Barbie È la metterola Nella macchina È quella che si immerge Nell'acqua E lo sapete Che faremo Il video Del nascondino Sì Vediamo Com'è carina E lo faccio Come le tessere Elettrici Molto carini Mi piacciono tanto Anche a me Mi piacciono Mamma mia Quanta roba Guardate là Che disordine Dovete mettere in ordine E questi poi sono Gli zainetti Che più tardi Dovremo mettere Un po' Sì Che si ritorna a scuola Guardatela Che bella Ma non c'è che io sotto Allo treno Tengo una borsa a frigo Una borsa Ah sì È uno scompattimento Ermetico Sì Ci posso mettere anche Le cose a presto Giusto Tre Allora il video finisce qui Noi vi salutiamo Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate dei pollici All'inizio Ma non la do Tengo occhi anche io Brave Alla prossima video Ciao Ciao Ciao